Ecco da questo lato ci sono le ragazze. Il rettangolo di gioco è stato suddiviso in stazioni, oggi si sono degli esercizi predisposti dal Centro Tecnico Federale di Castel di Sangro, i cui tecnici sono venuti qua di persona a svolgere il programma indicato dalla federazione e oggi lo stiamo mettendo in atto. Qua ci sono le nostre lady giallorossi, in questo parte ci hanno la casetta rosa. Qua c'è un altro gruppo di nostre ragazze, ecco quelle qua stanno preparando un altro esercizio. Ci mesteranno insieme al responsabile tecnico del Centro Tecnico Federale di Castel di Sangro, che sta con la t-shirt bianca nazionale. Qua ci sono i ragazzi che hanno la seduta di allenamento oggi e quindi sono anche loro sotto osservazione in un certo senso. Sono i ragazzi della categoria pulcini e esordienti. C'è il mister Gabriele di Felice con l'Apolo blu. Grazie. 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 Il rettangolo di gioco è stato suddiviso in stazioni, in ogni stazione è previsto un determinato tipo di esercizio. André, André, la mano centrale è tornata a destra, facciamo un pass. Non si fa bene, non si è avvenuto. Allora, non prendi la palla con le mani, non prendi la palla, è andato. Eh, si perde, non prendi la palla. Picché, stiamo vicini. Andiamo vicino a questa parte, sta piano, non c'entra, non c'entra, non c'entra, andiamo a fare l'opera, gira, andiamo vicino a questa parte, non stai fermo però, buona Andrea. Non camminare, fermaci, fermaci, vai vicino a questa parte, tu, ma no, vicino, così, poi, ancora, tu, ancora, anche tu, vai, andrà la testa, va bene, vado a raccogliere, vado a raccogliere. Alle prossime riprese, qua dal nuovo di via Olimpia, oggi venerdì, ultima seduta di allenamento dei nostri ragazzi, oggi è, in questa fascia di orario, un allenamento un po' speciale, in quanto ci sono i tecnici, i mister del Centro Tecnico Federale di Castel di Sangra. Allora, le prossime riprese, vi do un buon proseguimento di giornata.